Si sta svolgendo il convegno sul tema del Made in Italy e del cibo a chilometri zero dei prodotti locali qui a Pian della Regina che conclude una o due giorni di eventi organizzati dalla Lega Nord e dal Movimento Giovani Padani. Ieri la festa a Saluzzo e il giuramento MGP a Pian del Re e oggi questo convegno importante che parla del prodotto che rende il Piemonte, il nostro paese famoso nel mondo, che è il cibo e il vino. Un convegno in cui si sta parlando di quelli che sono i gravi problemi dell'agricoltura, la pressione fiscale, l'Imo agricola introdotta da questo governo, le sanzioni folli contro la Russia che impediscono ai nostri produttori di esportare, il PSR in Regione Piemonte che non è stato ancora approvato con grandi problemi. Insomma cercheremo di parlare di come poter rilanciare questo settore che è in grossa difficoltà perché quest'anno hanno già chiuso 1500 aziende agricole e la Lega ha il dovere di difendere i propri agricoltori e la propria terra.